C'è proprio l'esempio concreto delle potenzialità, della qualità, delle innovazioni tecnologiche che in questa regione si producono e che qui in questa struttura vengono prodotte. Questa è una struttura che non solo non sarà chiusa, ma che ha un potenziale, una prospettiva sulla quale bisogna investire. Io credo che la presenza qui del Presidente del Consiglio e anche la testimonianza, oltre che un impegno concreto, di questa volontà.